Sì, quella probabilmente è... Ma no, prima è che però... Però... Ma io si sorti a Gimicare. No, beh, per me non per dividere il livello che è il livello che è più veloce, però più giù è salato a fare i bambini, l'arer, il bambino, l'arer, il bambino, il bambino... Ma iniziamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti e grazie alle autorità presenti, grazie ai giornalisti presenti in sala e ai giornalisti collegati in streaming per aver aderito a questa conferenza stampa di lancio della 26esima edizione del Gran Paradiso Film Festival. Subito la parola al Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Renzo Testolin. Sì, grazie anche da parte mia per la vostra presenza a questa conferenza stampa che per me è comunque sempre un'emozione, ecco, poter partecipare, poter dare il via a questo evento. Un'emozione perché è una manifestazione che a vario titolo nel tempo ha sempre caratterizzato la vita dei comuni all'interno del Parco Nazionale Gran Paradiso ed è una manifestazione che piano a piano è cresciuta e ha portato degli elementi di innovazione e di prestigio all'interno della nostra comunità. È una manifestazione che trova la sinergia dei sette comuni, molti dei quali sono qua presenti oggi e che comprende anche una fattiva collaborazione da parte dell'amministrazione regionale che oggi qua è rappresentata oltre che da me e dall'assessore Grosjac e anche dall'assessore Sapinè per quanto riguarda l'aspetto ambientale. Al momento ho impegnato in una commissione consigliare quindi ne scuso l'assenza e poi dal presidente della Fondazione il consigliere Giordano che segue da vicino la vita e la struttura della Fondazione Gran Paradiso nel suo senso più allargato. Quest'anno una manifestazione che ha un titolo assolutamente attuale direi, l'arte dell'equilibrio, un equilibrio che nelle zone che sono caratterizzate dalla presenza del Parco Nazionale del Gran Paradiso e saluto il suo direttore che evidentemente non può mancare in queste circostanze come in qualsiasi altra iniziativa che si svolge nel Parco e grazie per la sua attenzione e la sua sensibilità che rappresenta la sensibilità anche del commissario, fu presidente Italo Seris che sempre ha accompagnato questo tipo di iniziative e un equilibrio che fa parte del vivere in montagna, dell'essere attivi all'interno di un percorso molto importante tra natura e lavoro dell'uomo, quella sinergia che molte volte ci fa lavorare con attenzione, sempre direi con attenzione, verso quello che è il rispetto dei luoghi in cui viviamo e la loro valorizzazione. Approfitto per salutare anche il presidente del Consiglio Alberto Bertin che è da sempre vicino a questo tipo di iniziative e che le sostiene così come altri partner che verranno sicuramente enunciati dalla direttrice di Fondation. No, ma un'edizione che speriamo di poter vivere assieme ai tanti turisti, ai tanti residenzi, ai tanti ospiti in maniera sempre più partecipata, un'edizione che durerà un po' più a lungo rispetto a quello che era lo standard degli scorsi anni e che metterà ancora una volta in rilievo non soltanto il peso specifico dei film che verranno trattati ma anche sarà in grado di valorizzare il nostro territorio con una adeguata messa in luce di quelli che sono le peculiarità dei nostri comuni e delle nostre comunità andando a ripercorrere nei sette comuni del parco, delle serate, dei momenti di promozione e di presentazione di questo film festival in maniera da renderli partecipi e protagonisti di questa nuova iniziativa. Io mi fermerai qua, lascio la parola alla dottoressa Williamo per poi magari chiudere il percorso con qualche considerazione finale. Grazie Presidente e io passo subito la parola al nostro Presidente Corrado Giordano. Grazie, grazie Luisa, grazie a tutti voi di aver accettato l'invito a questa presentazione. Quindi l'arte dell'equilibrio, quindi il titolo per questa 26esima edizione del Gran Pariso Film Festival. Un festival che come detto si svolgerà per più giorni, dal 24 luglio fino al 17 agosto, nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, quindi si presenta con tanti contenuti e un'importante programmazione di date, dopo avremo modo di vedere i numeri in maniera un più precisa. Il festival parte da Cogne, parte da Cogne e da Rem Notre Dame per poi spostarsi in maniera poi itinerante negli altri comuni valdostani del parco, Val Savranche, Rem Saint-Georges, Entrault, Villeneuve e Maville. Quindi interessando quindi tutto il territorio valdostano del Parco del Gran Paradiso e coinvolgendo in modo sempre più attivo e diretto le amministrazioni comunali che approfitto anch'io per salutare e per ringraziare della loro presenza qui oggi. Il festival in qualche modo segue quello che è, quello che dovrebbe essere la missione di Fondazione Gran Paradiso, cioè di essere a disposizione, a servizio dell'amministrazione regionale, del Parco Nazionale del Gran Paradiso e dei suoi comuni per attuare politiche di promozione naturalistiche e ambientali di questo territorio. Credo fermamente che la natura, l'ambiente e la sostenibilità siano tre argomenti che tra di loro sono strettamente correlati e fanno parte di un unico grande ecosistema, quello che chiamiamo vita. Un ecosistema che si basa, e qui utilizziamo il titolo, che si basa sull'arte dell'equilibrio e che va assolutamente protetto, protetto e del quale noi dobbiamo prenderci molta cura, in quanto da esso dipende anche la nostra supervivenza. Il ruolo di Fondazione Gran Paradiso, come dicevo poc'anzi, grazie all'inispensabile sinergia del Parco Nazionale Gran Paradiso e dei suoi comuni, è quello di contribuire attraverso attività di sensibilizzazione affinché turisti e residenti, giovani e meno giovani, abbiano sempre più la consapevolezza di partecipare attivamente alla salvaguardia del patrimonio di biodiversità che abbiamo il dovere di presentare per le generazioni future. Crediamo che il Gran Paradiso Film Festival sia un evento culturale che si inserisce a pieno titolo fra le azioni che possono aiutare a affrontare queste sfide che ci attengono, come la necessaria transizione ecologica, la lotta alla crisi climatica, che devono vederci tutti i protagonisti, anche nella nostra piccola regione. Il rischio più grande, prendo in prestito parole non mie, il rischio più grande delle conseguenze dei cambiamenti ambientali è quello di rimanere indifferenti e immobili e noi non possiamo permettercelo. Mi si è consentito di ringraziare tutto il personale della Fondazione Gran Paradiso per l'impegno, la dedizione che mette a disposizione della Fondazione e del Festival, personale che lavora nelle retrovie, ma che in qualche modo assicura da sempre, e lo dimostrano la longevità di questo Festival, la buona riuscita del programma che vi sarà presentato. Così come ringrazio tutti i nostri partner, alcuni li vedo in sala e li ringrazio personalmente, tutti i nostri partner che da tanti anni in qualche modo ci sostengono e hanno sposato in qualche modo la nostra iniziativa, la nostra filosofia. Grazie a tutti e buon Festival. Grazie a te Corrado per questa guida ed ora ascoltiamo le parole di Giulio Gorjac, assessore al turismo, sport e commercio della Regione Autonoma Valle d'Aosta che dal 1984, quindi da quasi 40 anni, finanzia questo evento culturale. Sì, grazie Luisa. Un saluto anche da parte mia a tutti i partecipanti a questa conferenza stampa per la 26esima edizione del Gran Paradiso Film Festival, che vede l'assessorato al turismo come uno dei partecipanti con grande interesse per questo tipo di manifestazione. Infatti quando il direttore Guillermo mi ha chiesto di scrivere i miei saluti da pubblicare sul catalogo, ho voluto evidenziare fin da subito la duplice vocazione di questo evento cinematografico. Da una parte la valorizzazione del contesto naturale del Parco del Gran Paradiso, dove il Festival è nato e dove si sviluppano gli appuntamenti con il pubblico, ovviamente nelle due valli interessate dal parco, quindi la Val di Rem, la Valle di Cogne, e dall'altra la sua forte motivazione ad aprirsi a scambi culturali in ambito internazionale. Valori che sono propri della montagna, che da sempre ha la capacità di caratterizzarsi come punto d'incontro di culture anche molto diverse tra loro. Operare le scelte degli investimenti per valorizzare l'attrattività turistica della nostra Regione sui vari mercati è un esercizio non facile e che richiede attente riflessioni, ma ciò che ritengo sia assolutamente strategico è di investire in eventi di alta rilevanza culturale e di forte appeal che sappiano interpretare l'autenticità e le peculiarità del nostro territorio, come sta facendo ormai da molti anni e con successo il Gran Paradiso Film Festival. Sono convinto che sia importante proseguire ad investire in rassegne come questa, come quella che presentiamo oggi, che è cresciuta nel tempo ed ha saputo rinnovarsi di anno in anno. Questo perché ci offre l'opportunità di comunicare attraverso l'arte del cinema naturalistico, ma anche mettendo a confronto, ad esempio negli incontri culturali che si susseguiranno nella sezione del rerum natura, personalità con esperienze molto diverse tra loro. Come dicevo, mettendo in rilievo quali siano le motivazioni e la filosofia che stanno alla base delle scelte da mettere in campo per uno sviluppo turistico della nostra regione sostenibile ed etico, avendo a disposizione una straordinaria e direi unica regione come quella in cui viviamo. È il contesto stesso nel quale viviamo e lavoriamo quotidianamente che ci obbliga ad avere un profondo rispetto per il privilegio che abbiamo e la nostra cultura, le nostre tradizioni, le montagne e i boschi che ci circondano sono la nostra ispirazione. Oggi la montagna, che in passato poteva anche essere considerata un luogo nella quale era difficile vivere stabilmente, oggi è diventato al contrario, e lo dicono molti studi, un luogo terapico per molti dei nostri problemi, non solo fisici, e può essere frequentata e goduta ad ogni età, quindi giovani, meno giovani, anziani, che trovano nelle nostre regioni e in quello che la nostra regione offre tutte le soddisfazioni di una vacanza all'insegna della natura. Il cinema naturalistico racconta la natura e noi abbiamo un'assoluta necessità che in ogni messaggio che trasmettiamo al potenziale visitatore ed anche all'ospite che già sta visitando la Valle d'Aosta, vengano comunicate la prepotente bellezza in cui siamo immersi e l'assoluta fruibilità dei nostri luoghi e delle nostre montagne. Quindi ringrazio anch'io da parte mia e da parte di tutte le strutture dell'assessorato, la Fondazione Gran Paradis e tutta la sua struttura per la costanza e la dedizione che ci mette nell'organizzazione di questa rassegna che sta di anno in anno raggiungendo un palcoscenico sempre più ampio e questo non può che riempirci d'orgoglio perché valorizza in pieno tutte le peculiarità della nostra regione. Grazie. Grazie Assessore. Il Parco Nazionale Gran Paradiso è stato più volte evocato come contesto ispiratore per questo festival e ascoltiamo allora le parole del suo direttore Bruno Bassani. Grazie mille, un saluto a tutti e qui io vi porto il saluto del nostro Presidente, per lui non gli piace essere chiamato Commissario, il Dottor Italo Serisi, che non può essere qui oggi. E per me ovviamente è un piacere essere qui al posto suo e rappresentare quello che credo sia uno dei temi più importanti, almeno in questo periodo, cioè il messaggio e il legame fra il messaggio tra l'elemento culturale e l'elemento della conservazione, con il pensiero che solo conservando la natura questa natura ci può proteggere ma soprattutto questa natura abbia anche un valore, un valore in termini naturali ma anche in termini economici. La natura conservata è sempre più evidente, ha un valore in sé e questo è quello, credo, il messaggio più forte che si trasmette in questi eventi di tipo culturale. Io sono reduce dal sessantesimo anniversario del Parco Nazionale della Vanuas che si è tenuto qualche giorno fa. Il 6 di luglio è stato siglato, istituito il Parco e l'anno scorso da una serie di eventi del centenario. 100 anni del Gran Paradiso, 60 anni del Parco della Vanuas che vi ricordo è stato istituito perché alcuni stambecchi dalla nostra area protetta si sono spostati in Francia, soprattutto nei massicci trasfrontalieri e hanno creato anche lì l'origine, l'esigenza di creare il primo Parco Nazionale Francese, nato quindi nel 63, 40 anni dopo i primi nostri parchi nazionali. Ma anche in quel contesto, anche nelle riunioni con il Presidente e il Direttore di quel parco nasce evidente il messaggio che accanto alla conservazione, alla protezione, ci debba essere lo sviluppo, lo sviluppo economico ma culturale delle aree che vivono intorno al parco. Il parco come un modello di riferimento. Io dico anche dal punto di vista scientifico perché studiando all'interno del parco si possono raccogliere delle informazioni utili per modellizzare le trasformazioni che avverranno, non c'è santo che tenga, avverranno sulle nostre montagne. E qui voglio chiudere parafrasando un messaggio dell'allora direttore sovraintendente, il Professor Videsot, che fece scrivere su delle piccole targhette in metallo, benvenuto chi studia, ama e protegge la natura. Questo credo che sia davvero il nostro messaggio perché chi studia conosce, conoscendo si può arrivare ad amare qualche cosa, la natura certamente più la si conosce più secondo me anche si è resti ad alterarla e ciò che si ama alla fine siamo tesi naturalmente a proteggere. Ecco che quindi questo messaggio culturale secondo me trasmette e viene regolarmente trasmesso dall'evento come il Gran Paradiso Film Festival, dove la divulgazione scientifica si associa allo spettacolo, lo spettacolo infinito della natura che ci lascia almeno personalmente tutte le volte esterefatto. Grazie. Grazie Bruno, grazie per queste tue parole. Il Festival ha proprio questo ruolo, ha il compito di studiare, amare e proteggere la natura. Come diceva Videsot, ora a me è il compito di presentarvi un po' più nel dettaglio i contenuti di questa 26esima edizione del Festival, ma prima di farlo permettetemi di ringraziare anche gli altri partner, coloro che non sono seduti su questo palco, che sono intanto il Ministero della Cultura, la Fondazione CRT, il Comune di Cogno che è qui rappresentato dal suo Vice Sindaco Pippo Lamastra, la Compagnia Valdossana delle Acque, ma anche i comuni di Emaville, di Villeneuve, di Entrault, di Rem Saint-Georges, di Rem Notre-Dame e di Val Savarange, oltre al Club Alpino Italiano anche qui rappresentato in sala, a Federparchi, alla Convenzione delle Alpi, al nostro sponsor tecnico Montura e al patrocinio di Ente Progetto Natura con il suo presidente Gabriele Caccelanza, che nel lontano 1984 si inventò il Gran Paradiso Film Festival. Questi i numeri della 26esima edizione, 58 proiezioni di film in 22 giornate di festival. Quest'anno avremo più sezioni, 9 sezioni a cui parteciperanno 16 personalità dei diversi mondi del sapere per 85 eventi totali nei 7 comuni del Gran Paradiso. E quest'anno avremo una novità, la presenterò in chiusura, una colonna sonora speciale creata ad hoc per il Gran Paradiso Film Festival. L'arte dell'equilibrio è il tema di quest'anno, è stato evocato già precedentemente dal Presidente della Regione, perché abbiamo scelto questo tema con il Consiglio di Indirizzo, perché l'esperienza della natura si svolge sempre in un vortice di forze, anche quella dell'uomo. E l'equilibrio non è l'assenza di questo movimento costante, ma è lo stato di ciò che subendo tali forze non muta, è lo stato di chi, nonostante tali forze, resta padrone di sé. Ecco, i nostri ospiti declineranno questo tema e questo tema è il fil rouge che caratterizza la narrazione e lo storytelling di tutti i film in concorso. Il valore del festival pensiamo che sia proprio questo, sia la coerenza degli elementi che lo compongono, per far emergere un messaggio che emergerà grazie alle immagini, alle parole e alle emozioni del festival stesso. I protagonisti indiscussi del festival sono come sempre i film, in particolare i lungometraggi del concorso internazionale Film Animalier, che quest'anno abbiamo scelto tra 164 pellicole provenienti da 39 diversi paesi, quindi è stata una selezione difficile, importante per selezionare questi 10 lungometraggi, molte sono delle prime visioni nazionali, ve le presentiamo con questo breve medley in cui potrete vedere le immagini e i registi e i titoli in sovrimpassione. Vediamo i film in concorso della 26esima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco, chi vincerà? Lo stambecco d'oro 2023 lo scopriremo a Cogni il 29 in occasione della cerimonia di premiazioni. I film sono, come dicevo, provenienti da tutto il mondo, abbiamo film iraniani, abbiamo film americani. Partiremo con un film francese, un film davvero importante, una grande produzione cinematografica, La Panthère des Neiges di Marie Amiguet e di Vincent Meunier. È un film che è stato in selezione ufficiale al Festival di Cannes, un film che ha ricevuto il premio César con la voce narrante di Paolo Cognetti. Sarà il nostro film di apertura, è un viaggio nell'altopiano del Tibet di Vincent Meunier, il fotografo, e di Sylvain Tesson, un autore, un viaggio anche interiore alla ricerca dell'eopardo delle nevi, ma alla ricerca alla fine di se stessi. La colonna sonora è speciale di Warren Ellis e di Nick Cave e sarà un film imperdibile. Accanto a film come questi, a film molto cinematografici, abbiamo delle produzioni più autoriali, come per esempio Naïs o Pei de Luz. Un film di Rémy Masseglia, una piccola produzione che racconta, anche qui un viaggio, di un papà con la piccola figlia di due anni sulle tracce del lupo. Qui siamo nelle Alpi marittime francesi. Avremo in collegamento anche la piccola Naïs che racconterà un po' questa esperienza. Tanti altri sono i film, ma non solo film, il Festival è fatto di cinema, con il concorso internazionale, il corto natura, il GPFF online e anche gli off del Festival, di film fuori concorso, ma anche, come dicevamo, di incontri. Il Dereo Natura è quest'anno una nuova sezione, parole di natura, con le presentazioni dei libri e poi degli eventi, delle pratiche esperienziali in natura, che chiamiamo area di festival, per conoscere il patrimonio naturale del Gran Paradiso. E ancora le fotografie del nostro concorso fotografico e della mostra fotografica GPFF in mostra. Ecco, partiremo a Cogno il 24 di luglio con la cerimonia di apertura. Vi invitiamo tutti alle ore 18. I protagonisti di questa cerimonia di apertura saranno, ne avete sentito parlare in questi giorni, i nostri adventurer di Giro Park e Adventure Trail. Giro Park e Adventure Trail è un progetto che è stato sostenuto dall'assessorato alla cultura e le politiche intergenerazionali, un progetto nel quale abbiamo creduto molto, che ci ha consentito di selezionare dei giovani promettenti in lingua inglese, nell'arte della comunicazione e soprattutto con un'insanabile passione della montagna. Sono stati formati, hanno salito le tre cime iconiche delle tre valli del Gran Paradiso e hanno raggiunto la bandonnina a 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso. Mi hanno anche fatto la sorpresa, tanto per incoraggiarci, in due una piccola delegazione di essere qui presenti con noi. Li salutiamo, gli chiediamo loro di alzarsi perché indossano la maglietta del festival. Sono loro due, Maxime e Richard, che hanno compiuto questa avventura e ci racconteranno l'emozione di queste avventure sulle nostre montagne. Ma qui li vediamo in questo video con le loro guide. Vedo che sorridono nel ricordo di questo momento. Ne parleremo, stanno realizzando dei filmati sulla natura che verranno votati dal pubblico del festival. Cerchiamo di creare sempre dei meccanismi di ingaggio per rendere il pubblico protagonista del messaggio che loro, proprio loro, lanceranno come giovane generazione. Il Dereo Natura quest'anno è particolarmente ricco, non sarà solo a Cogno, ma sarà anche nel Fondo Valle a Dentro. Qui vedete tutti i protagonisti. I protagonisti con al centro il consiglio di indirizzo, composto da Marta Cartabia, da Luciano Violante e da Fabio Fazio, che ha in qualche modo composto questa programmazione. Partiremo a Cogno, martedì 25, con un evento, lo definirei spaziale, perché abbiamo il piacere e l'onore di avere uno dei più grandi astronauti europei, Roberto Vittori, un astronauta che è stato due volte in missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ha partecipato sia a missioni europeo-russe che americane. Nel 2011 è stato sullo shuttle, ci racconterà come raggiungere l'equilibrio nello spazio, ma anche come dallo spazio si può ragionare sull'equilibrio terrestre. Interverrà sul tema ecosistema terrestre e risorse extra atmosferiche, l'equilibrio possibile. Lo spazio potrà essere un'opportunità per risolvere alcuni dei nostri problemi. Lo vedremo con lui. Andiamo avanti, mercoledì, sempre alle ore 18, il nostro De Re Umanatura vedrà protagonisti un tecnologo e un filosofo. Il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, converserà con Maurizio Ferraris, filosofo, sul tema tecnosofia, tecnologia e umanesimo per una scienza nuova. Andremo avanti, non poteva mancare il più grande zoologo italiano. Luigi Boitani ci parlerà di un problema molto stringente soprattutto sulle Alpi orientali, la convivenza tra la comunità e l'orso. Interverrà al nostro De Re Umanatura col titolo Conflitti e coesistenza con orsi e lupi. Luigi Boitani ha coordinato molti piani di gestione italiani di più di 30 parchi nazionali italiani, sarà molto interessante sentire il suo punto di vista. E poi ancora venerdì 28 due dei più grandi registi europei di cinema animalier. Martin Dorn, inglese, Oliver Goetzel, tedesco, saranno con noi sia per prendere parte alla giuria tecnica ma anche per raccontarci cosa c'è nel dietro le quinte della creazione di un film. Sarà molto divertente vedere i filmati dei backstage e capire le difficoltà di una professione come quella del regista animalier. Chiuderemo sabato 29 con Luciano Violante. Luciano Violante ci presenterà il suo ultimo libro La democrazia non è gratis, i costi per restare liberi. È un saggio densissimo sui rischi involutivi della democrazia a livello globale e sulle grandi trasformazioni in atto. È un tema di grande respiro che noi vogliamo affrontare chiedendogli di dialogare anche con il presidente della regione Renzo Testonin e l'assessore Luciano Caveri per capire come queste grandi trasformazioni in atto possano avere un effetto anche sulla nostra piccola regione. Sarà un momento molto interessante e molto politico. Dicevamo oltre ai lungometraggi abbiamo i cortometraggi. Quest'anno una sezione particolarmente ricca con sette cortometraggi, quasi tutti in prima visione nazionale, due in prima visione assoluta. Li vediamo in questo piccolo medley con registi e titoli. Grazie a tutti! Tra i cortometraggi anche due cortometraggi italiani siamo sempre alla ricerca di produzioni italiane, non è facile perché la tradizione come dicevo è piuttosto anglosassone, ma quest'anno abbiamo questa prima assoluta, Can You Hear Them? dal titolo sembrerebbe non italiano, ma è dell'italianissimo Paolo Sodi, un film sul parco delle foreste casentinesi, sulle faggete di questo parco. E poi un valdostano, un valdostano che è Joseph Peacin con un film, L'amore e la cura, per la prima volta in questo formato proiettato al pubblico, è un film su due ragazze di Grassonella Trinité e sul loro ritorno all'agricoltura di montagna. Il 29 sera alle 21 la cerimonia di premiazione nella quale il pubblico sceglierà i premi del pubblico e la giuria tecnica quest'anno presieduta da Francesca Corrao attribuiranno i premi tecnici. La novità di quest'anno è che questa settimana dal 24 al 29 non si terrà solo a Cogno, ma in contemporanea e in collegamento per la cerimonia di apertura e di chiusura anche a REM Notre Dame. Abbiamo voluto offrire al pubblico più possibilità, andiamo un po' noi dietro ai turisti e vogliamo dare loro più possibilità di scelte e quindi avremo tre sale collegate, il Grivola, la biblioteca a Cogno e il centro visitatori del parco a REM Notre Dame. Andremo avanti poi dal 30 luglio al 12 agosto con la programmazione online e anche qui verrà scelto il premio, il premio GPFF online. E poi ci sposteremo sul territorio visitando tutti e sette comuni del Gran Paradiso. Un doppio appuntamento a REM St. George con la mostra GPFF off in natura nel prato di Maison Pellissier, dove il primo agosto si terrà anche la proiezione, la piccola maratona dei cortometraggi. Il nove avremo invece il primo area di festival con un appuntamento dedicato ai più piccoli, con la possibilità di imparare a disegnare gli animali del parco con Maria Elena Ferrari e Parole di natura, la presentazione del libro di Milena Beta, una gioia di vivere, che presenteremo sia a REM St. George sia il 2 agosto a Val Savarange. Ci sposteremo poi per la trilogia dei castelli sul fondo valle e quest'anno anche un po' in omaggio alla decisione della regione di acquistare il castello di Entrò, partiremo il castello di Entrò con tre appuntamenti. Tre appuntamenti che vedranno la sera all'interno della Sala Giustizia, la proiezione degli ultimi tre stambecco d'oro, quindi i due ex sequo dell'anno scorso e la riproiezione del film che avrà vinto quest'anno. E il pomeriggio avremo degli appuntamenti interessanti del nostro De Rerum Natura. Il primo sarà Energia, Natura e Cultura in Valle d'Aosta con Renzo Testolin, Corrado Giordà, Vittorio Anglesio e Giuseppe Ergirò. E poi, nell'ambito delle celebrazioni sulla figura di San Bernardo, l'alpinismo, molti equilibri in gioco. Accoglieremo Hervé Barmas e Don Paolo Papone. Questo ultimo De Rerum Natura sarà introdotto da Monsignor Franco Lovignana che appunto ricorderà la figura di San Bernardo. Questi gli appuntamenti ad entrò, ma la trilogia dei Castelli continua a Chatella Jean, dove per accedere alla Rocca faremo un'aria di festival con la campionessa Gloriana Pellissier, che ci spiegherà i segreti del trail running tra resistenza fisica e mentale. Il pomeriggio quindi tutti con le scarpe da trail e le scarpe da ginnastica per imparare i segreti per salire alla becca, dove saremo la sera con la proiezione del fin vincitore della giuria tecnica. Questa trilogia dei Castelli si chiuderà ad Emaville, nel parco del castello di Emaville, dove verrà attribuito il premio GPFF online il 13 agosto e sarà preceduto da un'ulteriore area di festival il pomeriggio nel parco del castello sullo yoga, respiro, movimento e meditazione, strumenti di equilibrio. Questo è un modo per scoprire le tante dimensioni e le tante offerte che il Gran Paradiso porta con sé. I premi sono quelli consueti, quelli attribuiti dalla giuria del pubblico e dalla giuria tecnica, li vedete in questa slide, trovate tutto sull'area press. Tutte queste informazioni sono disponibili da oggi pomeriggio online sul nostro sito e sulla nostra app Visit Gran Paradiso. Abbiamo fatto questa scelta di essere paperless, quindi stamperemo solo il programma che avete ricevuto e un numero limitato di cataloghi che verrà dato solo ai soggetti interessati che seguiranno. Ma tutto il materiale è disponibile da oggi pomeriggio elettronico su questi dispositivi. Tutti gli eventi, lo ricordo, sono gratuiti grazie ai nostri tanti partner e sono aperti a tutti ma su prenotazione. Ecco, questo è un ricchissimo programma, un'estate che ci aspetta molto intensa, che è stato possibile grazie a questo fantastico team di Fondazione Gran Paradiso che ringrazio fin d'ora per gli sforzi fatti fin qui e per tutta la fatica anche che ci attende, ma tutto l'entusiasmo che sappiamo mettere in una manifestazione in cui crediamo tutti molto. Vedete questo scatto che è l'interpretazione dell'arte dell'equilibrio voluto dal nostro fotografo Paolo Rei che è qui con noi oggi e che ha interpretato così l'arte dell'equilibrio. Ultima sorpresa, l'ho in parte annunciata, è questa. Da quest'anno ci sarà una colonna sonora ufficiale del festival realizzata dalla compositrice, dalla musicista svedese Olivia Altrop, che tra l'altro ci sta seguendo dalla Svezia in streaming, quindi la salutiamo. Olivia Altrop in arte e libro lore, è una performer, una compositrice, molto attenta alle tematiche della conservazione della natura, una persona con cui ci siamo trovati subito molto bene e che ha composto quella che sarà la sigla del festival e che vi proponiamo in versione strumentale per chiudere questa conferenza stampa, prima poi di lasciare la parola al presidente della regione. Ne ascolteremo un breve brano con le immagini della sigla montate da Francesca Nota. Ieri Olivia ci ha dato il titolo, perché ci ha pensato un po', il titolo ci piace molto, è Gran Paradiso Your World is Mine. Da oggi pomeriggio su Spotify, su YouTube, questa musica creata ad hoc sarà disponibile sulle principali piattaforme, però presa dall'entusiasmo, perché si è appassionata di Gran Paradiso, della storia dello stambecco, sta lavorando ad una versione anche con i testi, quindi per la sua performance di apertura a Cogno avremo anche una canzone, non solo questa versione strumentale che chiude così la nostra conferenza stampa. Grazie a tutti. Ed ora la parola al presidente della regione, prima di lasciare spazio alle vostre domande. Vi ricordo solo che avete ricevuto un code per vedere tutto il materiale, per le testate che hanno bisogno anche di materiale video. Tutti i trailer del film sono disponibili in area pressa e potete scaricare tutto. Speriamo che possiate invitare tante persone a partecipare a questo programma così ricco che abbiamo preparato per voi. Presidente, a lei la parola per la conclusione. Rimane poco da aggiungere in effetti, se non proprio tre considerazioni finali che partono da quello che è il sunto che gli intervenuti hanno voluto rappresentare in questa sede. La valorizzazione di tre elementi. Sicuramente la cultura che tiene conto del cinema, dei nostri castelli presenti sul territorio, del nostro territorio stesso che, come ha definito benissimo Bruno Bassano, è qualcosa di coinvolgente, di fortissimo. Da un impatto e una forza estremi entrarci dentro. Da lo sviluppo compatibile che la cultura deve insegnarci ad approfondire sempre nel nostro percorso di convivenza tra uomo e rispetto della natura. E poi il secondo aspetto direi l'autenticità di questo film festival che si incrocia e si confonde con l'innovazione che tutti gli anni si cerca di apportare con delle emozioni nuove come quella della colonna sonora piuttosto che con l'intervento di giovani protagonisti che ringrazio per il loro entusiasmo e che possono avvicinare anche una fascia di attenzione diversa da quella magari canonicamente riconosciuta come più attenta agli aspetti cinematografici o ambientali. E infine pensiamo che questi momenti, questa presentazione possa aiutarci anche tramite voi a essere attrattiva nei confronti di un pubblico che dovrà avvicinarsi a questo momento non solo come un evento in più a disposizione del territorio ma che sia un motivo per venirci a trovare, per partire da ogni parte diciamo del continente per venire a verificare di persona quelle che sono le offerte di questo festival internazionale e il contesto all'interno del quale lo stesso si svilupperà. Penso che questo può essere l'aiuto che voi, professionisti della comunicazione, potete darci sostenendo questa iniziativa e divulgando quelle che sono le sue prerogative presentate oggi. Grazie, a questo punto spazio alle vostre domande. Allora io vedo che non ci sono domande in sala, ho due canali su cui controllo, chiedo scusa non avevo visto. Visto che ci sono tanti timidi parto io spezzando il ghiaccio. Intanto grazie mille e complimenti per questo tipo di iniziativa che è sicuramente importante e preziosa anche per la cittadinanza quindi come abitante sicuramente apprezzo questo tipo di eventi. La mia è più una curiosità legata a come sono stati selezionati i ragazzi di Giro Park e Adventure Trail che è un progetto che abbiamo visto prima e che ho seguito tramite i social mi ha appassionato molto e come poi verranno nello specifico coinvolti all'interno del festival che quest'anno è anche una bellissima tematica quindi complimenti anche per la scelta del tema. Grazie per questa domanda, diciamo che abbiamo fatto una selezione molto attenta e devo dire riuscitissima. Si è creata una commissione con la partecipazione di guide alpine, di insegnanti di lingua inglese e di addetti di Fondazione Grand Paradis che hanno esaminato dei pitch che i ragazzi hanno prodotto dopo aver partecipato al nostro evento di lancio raccontando quelle che erano le loro competenze, i loro skill. Devo dire che sono stati bravissimi, hanno dimostrato appunto una grandissima passione per la montagna e anche una grande preparazione fisica ma sono stati selezionati per questi tre elementi. Sono stati 12 perché di più non potevamo fare, ci sono dei limiti per accompagnare da parte delle guide i ragazzi sul Gran Paradiso, si sono dimostrati la scelta giusta ed oggi sono al lavoro per portare questi messaggi che il 24 a Cogno ascolteremo tutti insieme. Quindi grazie per aver sottolineato questo progetto nel quale abbiamo creduto molto. Non so se ci sono altre domande in sala ma io ho due canali su cui ricevere le domande e ho due domande via Whatsapp che sono queste. Da parte del giornale del turismo.com quanto contano questo genere di iniziative culturali per la regione Valle d'Aosta e qual è il loro reale impatto sul territorio e sul turismo. Lascerei naturalmente all'assessore o al Presidente intervenire su questo tema. Sicuramente dal punto di vista culturale come ha già evidenziato il Presidente Testolin vengono messe in valore tutte le particolarità e le peculiarità del nostro territorio quindi i castelli, la natura, tutto quello che ci circonda e che viene apprezzato dai visitatori e che ovviamente noi sosteniamo anche con degli investimenti. Luisa Guillermo ha fatto cenno alla volontà dell'amministrazione regionale di acquisire il castello di Entrò che è solo l'ultimo dei manieri di cui la regione è diventata proprietaria e di cui si farà carico per valorizzarlo e metterlo a disposizione di rassegne come queste. Quindi dal punto di vista culturale sicuramente una vetrina internazionale importantissima che viene sfruttata anche per la diffusione di questi film. Dal punto di vista turistico la natura e l'ambiente sono una componente essenziale della nostra offerta turistica. Siamo molto rispettosi e tuteliamo l'ambiente sapendo che in primis ci dobbiamo vivere dentro noi quindi sicuramente ne abbiamo una cura particolare che vogliamo trasmettere ai nostri turisti e quindi queste sono manifestazioni che mettono in valore proprio l'ambiente e i nostri turisti attraverso anche questi film potranno beneficiare di tutte le bellezze in parte del nostro territorio ma più ad ampio spettro di quello che la natura ci offre e come diceva il direttore Bassano ci entusiasma tutte le volte che ne vediamo un pezzo rappresentato. C'è un'altra domanda da parte di Lorenzo Ciofani il cinematografo quali sono il coinvolgimento e la partecipazione dei registi al festival? C'è spazio anche per piccole produzioni? Assolutamente sì i nostri registi sono stati tutti invitati sia i registi dei corti che i registi dei lungometraggi stiamo ancora battagliando per esempio con l'ambasciata dell'Iran perché a volte è difficile far venire i registi che hanno magari bisogno di interpreti e che hanno magari dei viaggi anche in questo momento difficili ma ce la faremo avremo molti di loro presenti al festival per noi è molto importante che il pubblico si confronti con loro e per loro è sempre una sorpresa venire nel Gran Paradiso perché si aspettano dei festival più urbani e quando vengono a Cogno si innamorano in qualche modo di questo luogo di cui anche noi siamo innamorati quindi grande spazio ai registi naturalmente i protagonisti sono gli animali quindi non li possiamo invitare ma c'è spazio per le piccole produzioni? Sì, sempre il ruolo del festival è anche un po' mescolare questi linguaggi grandi produzioni cinematografiche ma anche piccole produzioni autoriali quindi nella commissione di selezione facciamo una grande attenzione anche alle piccole produzioni cinematografiche qui si è verificato un errore sconosciuto quindi non siamo più online ma questo è il segno forse che dobbiamo chiudere grazie mille a tutti grazie grazie mille a tutti grazie mille a tutti